Elisabetta Gregoraci in dolce attesa, la reazione inaspettata di Flavio Briatore, ora dobbiamo. Dopo la separazione ufficiale che ha segnato la fine del matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sembrava che i due avessero trovato un modo di mantenere un rapporto cordiale per il bene del loro figlio Nathan. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Tuttavia, le recenti foto scattate durante le loro vacanze insieme hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico, rivelando un nuovo capitolo nella vita amorosa della bellissima Elisabetta. Le voci del gossip hanno iniziato a circolare dopo che la showgirl ha ammesso di aver intrapreso una storia d'amore con l'affascinante imprenditore toscano Giulio Fratini. Le immagini dei due insieme durante una vacanza a Capri hanno invaso i social, scatenando la curiosità dei fan. Ma la notizia non finisce qui. Si sussurra che Elisabetta Gregoraci potrebbe essere in attesa, anche se nessuna conferma diretta è stata rilasciata. Questo ha riportato alla luce un presunto accordo segreto tra la showgirl e l'ex marito Flavio Briatore, un patto di coabitazione familiare che doveva essere rispettato per il bene del loro figlio. Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che Elisabetta avesse un vincolo contrattuale che le vietava di apparire pubblicamente con un altro uomo per almeno tre anni, un accordo ora sciolto dopo il trascorrere di questo periodo. La decisione della showgirl di mostrarsi in pubblico con il suo presunto nuovo compagno sembra essere la prova di questa svolta, rompendo finalmente il vincolo imposto. Ma cosa ne pensa Briatore di questa nuova rivelazione? Cosa c'è dietro a questo accordo? E soprattutto, la presunta gravidanza della Gregoraci avrà un seguito? Lascia un commento con la tua teoria e rimani sintonizzato per ulteriori sviluppi su questo intrigante capitolo del gossip.